Ciao a tutti ragazzi, sono Andri dello staff di Let's Play FIFA, www.lettsplayfp.it, link pochino a Facebook in descrizione Siamo quasi con il primo episodio della nostra carriera, la carriera allenatore che abbiamo interpreso con Southampton Perché io ho proposto Cagliari, Valencia e Leicester, ma nella sezione commenti, vi ho detto anche se volete con un'altra Si è stati praticamente in metà dei commenti, tantissimi, a chiedere al Southampton, quindi ovviamente vi accontentiamo E la nostra prima carriera vera, perché le altre diciamo sono finite, ma luccio Inizia col Southampton, la formazione base è questa qua, mettiamo difficoltà partita leggenda Durava tempi 6 minuti, questo lo mettiamo moderato, si direi che moderato potrebbe essere la scelta migliore Valda, Sterlina, siamo in Militera, cazzo, poi si a me, rosa utilizzata le più recenti Compensione europea alla prima stagione, nonostante noi non siamo inclusi, io direi di mettere Rifacciamo le conteste di serie, eccetera eccetera Allora, quadra, no, ho sbagliato, ringhi facciamo Quadra, dobbiamo proteggiare le conteste di serie, yes Ok, vabbè, questi sono i giorni di Champions e questi altri sono quelli di Europa League Vabbè, noi non siamo inclusi, quindi grazie Sarà salva, avanti, siamo pronti Allora, il nome dopo un lungo consulto con Mugnaz, durato più o meno un minuto Siccome ha un nome in mente, detrimente uno più dell'altro Koeman è l'allenatore del Saldentum, questo si chiamerà Andre Koeman Perché Andre sono io, vabbè Ok, quindi, compiamo, mettiamo un'azionalità olandese Da bravi Koeman Koeman Ok, olanda, no, aspetta, ah no, giusto Devo andare a destra Ok, olanda, giù, 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 giù No, eccola Mettiamo carnagioni chiara Dov'è? Ecco qua, no, vai Tipo corpo, vabbè, sì, questi erano bene Avanti Adesso, caso tempo non mi accolgo, manco un nuovo allenatore Vabbè, a sorpresa Chi erano gli altri candidati, vabbè Comunque, comunque Aspettiamo questo noiosissimo gregamento E nel primo episodio ho deciso che non facciamo tante partite Ma più che altro un'analisi di Andare a vedere quali sono gli opd che ci chiedono Chi ci serve nella nostra squadra e chi invece dobbiamo comprare Cioè, ho detto la stessa cosa Chi è buono nella nostra squadra e chi invece dobbiamo comprare Insomma, in quali ruoli ci servirebbe una giustativa E quindi Quindi, appena ha finito questo caricamento Anche più lungo del solito Possiamo finalmente vedere Ah, la nostra squadra Mi modulo a utilizzare Ah, intanto ho accaduto di caricare La nuova carriera Come vedete su questo account Non ho accaduto molte carriere Perché non mi fa premere X Ecco Sera pure un pallato Molto bene Iniziamo bene Carriera LVF Start Ce la puoi fare Ok, ci siamo Eccoci qua La schermata ci accompagnerà per molto tempo Intanto andiamo a vedere gli obiettivi Obiettivi di campionato Qualifica di ruolo Quindi, vabbè Sesto Settino vostro Non molto difficile Questo è il nostro osservatore Tanto a caro piacere Diciamo che Queste mail sono quelle più inutili Secondo me Quello dell'osservatore E Vabbè La leggiamo Un giocatore in particolare Se qualcuno non ha mai fatto una carriera Su Fia 15 Almeno sa Cosa ti dice All'osservatore Poi Dovremmo cercare Non c'entrò anche se c'entrò Grazie Lo so io Non mi interessa Ciò che dici tu Poi Informazione importante Siamo arrivati Vabbè Sì Anche questa è la mail inutile Adesso Andiamo all'ultima mail utile Cioè questa qua Che chiede Gli ottavi di finale Di coppa Allora La nostra rossa Ecco 4 e 3 Base Manet Ok Foster Klein Capitano Alderweireld Bertrand Cork Schneider Ma c'è già One Esatto Qua 72 di tuffo 76 Racer 70 Rindio Forse Ci serve un potere migliore Però Per l'inizio Quanto andare bene Klein Già lo conosco L'ho preso In ogni carriera Da FIFA 10 Era fortissimo È molto veloce Ha buona fase difensiva Insomma Klein Non penso di sostituirlo Perché Mi piace davvero tanto E quindi Sì 86 Per scatto Ottimo Per essere 87 Accelerazione Anche se fu Molto buono Capitano Fonte Insomma Abbastanza Meglio Però I capitani Magari Alla prima stagione Non li buttiamo via Quindi Magari ce lo teniamo A ne prendiamo Un minuto Di centrale migliore Che fa il titolare Luca Quanto in Anderweireld Arrivato dall'Atletico Non so neanche Se è in prestito O se è a titolo Definitivo Lo scoprirò Tra poco Nella schermata Aggressività Accelerazioni Elevazione Buon valore Ok Potenza Tiro 75 Sì Come Bertong Il suo amico Ex Ajax Tirano Delle scagne Vabbè Al drivereld E' buono Bertrand Un altro Trasino Appena arrivato Scivolata Contrasti Buoni La Velocità La velocità E' pari A Vabbè Un buon Trasino Lui Direi Direi che Wanyama Prende subito Il posto Di cork Perché Wanyama E' una bestia Ha tutte le Caratteristiche Di Fisico Velocità 89 80 80 84 Rutenza Tiro 74 Cervata 78 Contrasto CDC Len4231 E' veramente Un bel giocatore Già Lo vedo Poi Si 3G Forza Schneiderling Anche E' un buon CDC Lui Sinceramente Infatti Penso Di Escluderlo Caratteristiche Comunque E' anche Un po' Lentino Non ha Grandi passaggi Insomma Non è Specializzato In nulla Warp House Come Rodriguez Vabbè J Rodriguez Sicuramente Troverà Più Spazio Di Davis Anche Lui Non è Male Vabbè Intanto Vediamo Magari Nel modo Non riusciamo A escludere Entrambe Anche Se Warp House Nel In realtà Fattissimo Poi Dujantadich Ecco Abbiamo Fatto Un po' Di Modifiche Alla Formazione Perché Volevo Prima Vedere Com'era E poi Continuare A commentare Comunque Perché Se no Il video Descrivere Un Giovedore Diventava Anche Un po' Palloso Ora Stiamo Facendo Un po' La Banchina Intanto Ci Soffermiamo Un attimo Su Qual è La Scuola Del Di Mane Etadich Cerci E Pelle E Long Con Anche Maiuca Perché Può Favere Il Tolare Da ATT Quindi Adesso Andiamo Un attimo A mettere Come Il mio Solito Voi Mi direte No Non Farelo Perché Tanto Io Appena Fisco Registrare La Stop La Carriera Quindi Potrò Anche Levare Ciò Che Appena Fatto Ovvero Mettere I Giocatori Più Giovani E Più Scarsi Quelli Io Di Solito Li Mando In Prestito Perché Comunque Mi Ritornano Magari Meno Migliorati E Perché Sono Consapevole Che Non Li Userei Mai Quindi Diciamo Dal Tempoi Metto Qualcuno A Vendere Quelli Che Non Hanno Un Futuro Quelli Scandalosi E Qualcuno In Prestito Quindi Vabbè Tu Vai In Prestito Tu Sono Tentato Di Metterti A Vendere E Infatti Lo Faccio E Scherf Perché 22 Anni Sì Sì Diciamo Che Insomma Vabbè Questi Vanno Tutti In Prestito Magari Ci Treniamo Un Paio Tanto Per Prestito Di Stagione Vabbè Insomma Questa Parte Potrei Anche Velocizzarla Perché È Un Po Noiosa Allora Comunque Ricapitolando Intanto Che Fisco Mettere In Prestito Stagione Io Direi Che Il Modulo Comunque Ho Pensato A Questo 4 2 2 2 Ma Ditemi Voi Come Rinforzi Ci sta Bene Un Attaccante Di Riserva Di Fisico Perché C'è Maiuca Che È Un Attaccante Di Riserva Ma È Solo Veloce Un Dipensore Centrale Ci Serve E Un Ricambio Tra Le Strani Destre Che Comunque A Sinistra C'è Anche Genre Triguez Ci Spero Che Questo Video Vi Visito E Noi Ci Sentiamo Nel Possible Vai Bye-bye.